bentornati bentornati sul canale bentornati sul canale comincia la lunga sosta che ci condurrà al derby al derby tra le prime in classifica perché milan e inter sono le due uniche squadre a punteggio pio dopo tre partite tre vittorie per l'inter tre vittorie per il milan differenza reti leggermente a pannaggio negli azzurri che ancora non prendono un gol e ieri è stata una prestazione totale una prestazione totale secondo me inquadrata non perfettamente diciamo in generale dalla stampa nazionale tra addetti ai lavori cioè è stata elogiata l'inter ma secondo me è stata data troppa importanza alla prestazione negativa della fiorentina che invece inizialmente viene scritta come il l'ostacolo importantissimo la prova del nove no ci ricordiamo quello che che si scriveva e si leggeva e si diceva ieri prima di inter fiorentina la vera prova il test probante adesso vediamo la verifica la fiorentina che che viene dalla qualificazione europea e ha più minuti nelle gambe perché è partita prima e quindi sta meglio poi è stato tutto ribaltato dopo il 4 a 0 la fiorentina era stanca troppi errori la squadra italiano era poco concentrata si è sfaldata diminuendo i meriti diluendo quasi i meriti dell'inter che invece secondo me sono enormi e questa questa narrazione questa questa storytelling la ritroviamo per certi versi nelle pagelle che stamane abbiamo letto sui quotidiani sportivi italiani in particolare su gazzetta e correre dello sport perché altri diciamo che li vali calcolo un po meno diciamo ma non per me in generale diciamo i due i due quotidiani sportivi di in qualche modo di riferimento sono gazzetta dello sport e correre con tutte le critiche che tutti noi possiamo fare però restano i due diciamo in qualche modo riferimenti sportivi almeno per il calcio e io sono in disaccordo con i voti stretti per per quanto riguarda per i nerazzurri e le votazioni invece le pagelle abbastanza cattive con quelle della fiorentina come a dire sì va bene che la prova dell'inter ma molto è stato demerito demerito loro ho visto 8 in 9 dati per molto meno poi questa cosa che il 9 il 10 si possa dare solo se fai doppietta in fine di Champions League secondo me è sbagliato perché non tiene conto della proporzione non tiene conto della prestazione cioè non è che se tu non giochi contro il Real Madrid allora la tua prestazione vale di meno tu devi valutare quello che vedi oggi non quello che potresti vedere o allora se tu allora uno del Paris Saint Germain oppure uno del Bayern non può mai avere un 9 in patria perché non giocherà mai contro avversari dello stesso livello ma che vuol dire o la Juventus dei quei 7 8 anni in cui dominai lungo e largo era talmente più forte no non gli possiamo dare i 9 perché se uno gioca 9 gli dai 9 ma questo è un mio metro delle pagelle che va dall'1 al 10 in Italia essendo da sempre no la patria dell'estremo centro della della democrazia cristiana totale è chiaro che non si va dall'1 ma si va dal 4 proprio ad andare male all'8 se succede e infatti Lautaro prende 8 no sulla gazzetta il voto più alto è l'8 all'autaro per prendere 8 l'autaro ha dovuto fare una doppietta giocate clamorose difesa del pallone prestazione secondo me che è da 9 ieri l'autare è stato da 9 secondo me dice allora turamoni dai 9 e mezzo tanto per essere chiari ma sono gli altri i numeri che secondo me ad esempio la gazzetta somma r6 vabbè ci sta fa quello che deve fare qualche incertezza in un paio di traversoni quindi secondo me è corretto darmian 6 e mezzo non ha fatto vedere biglia a nessuno darmian dalle sue parti 6 e mezzo molto basso cioè si così si veramente si affossano i valori degli avversari cioè se la fiorentina prima di scendere in campo con l'inter era una squadra in palla che faceva divertire una delle peggiori soprattutto a livello offensivo che potesse affrontare l'inter poi dopo mi ricordo un po' la storia del benfica quando l'inter prende il benfica in champions league era la squadra imbattuta in champions andava come un treno in patria aveva fatto a polpette la juventus aveva vinto il girone sul sul pari san germen aveva distrutto il brucio agli ottavi club brucia agli ottavi e allora occhio benfica tostissimo il benfica favorito se devo dare un 1 per cento in più 51 benfica 49 inter dopo il 2 a 0 di lisbona e vabbè ma il benfica favorevole il sorteggio per l'inter e il benfica non lo so io la vedo così io la vedo così ditemi voi se poi defray 7 bassissimo bastoni 7 iper basso don fris lo stesso don fris 6 e mezzo che deve fare di più per arrivare non dico tanto almeno al 7 e mezzo che deve fare di più don fris che deve fare sia sbagliato qualche uscita nel primo tempo qualche qualche scalata e infatti non è che uno gli da 10 cioè non è che o è 0 e 10 ci sono i voti 6 e mezzo don fris una partita finita 4 a 0 dominante in cui lui è stato un fattore 6 e mezzo a barella la spiegazione sembra più saggio più attento all'equilibrio che ha le che ha l'elettricità ma l'inter non può prescindere dal suo rapporto qualità quantità arthur lo mette lo lo mena e scampa il giallo ma 6 e mezzo barella devastante in sua ripresa barella devastante in sua ripresa vabbè c'ha la c'ha la 7 mkhitaryan 7 di marco 7 turam 7 e mezzo turam 7 e mezzo stona ma tanto e non poco stona tanto ma tanto tanto bravo nello stretto e sul lungo dialogo con l'autaro deve correggere un certo callonismo di fondo la prevenzione a sbagliare gol più facili potenziale ma come allora allora quali sono i gol sbagliati facili da turam sulla prima fa un miracolo ad anticipare con la punta l'avversario sul cross da sinistra poi sai quando prendi la quando arrivi con la palla con la punta la punta può andarti dritta per dritta ma può anche sparare purtroppo ma l'anticipo sull'avversario c'era stato sul secondo gli da una palla un missile gli da stato potente era su terra e turam avesse sbagliato il gol ora sì era un gol sbagliato ma se tu mi dai una palla potente ma a mezza altezza è ovvio che io vado col piede e poi come la prendo la prendo ma era un missile sul secondo sul secondo nel secondo tempo quel diagonale che esce tanto così forse sbaglia un po ad allargarsi troppo ma anche vero che se tu ti allarghi ti porti il portiere molto sul primo palo quindi è stato lì è stato anche cristianzano a coprire non era così scontato poi per il resto determinante gol che stappa la partita assist clamoroso per il 2 a 0 si guadagna ricorda del 3 a 0 ditemi voi 7 e mezzo c'è molto buff frattesi 6 vabbè quadrato 6 e mezzo arnatovic 6 vabbè ma anche il correre lo sport non è da meno non è da meno anzi zommer 6 e mezzo secondo me mezzo voto di troppo vabbè darmiando e fra i bastoni 7 molto bassi secondo me dunfris 7 può starci io ti ho dato pure mezzo voto in più quadrato 6 e mezzo barella 6 si fa innervosire dal fallaccio di arto risparmiato dal giallo fino a beccarsi lui l'ammunizione è il primo a uscire saggiamente e io sono che con barella lo sapete con barella lotaro che secondo me sono i due che ti danno proprio quel cambio di marcia io sono molto critico con loro ma ieri anche barella io l'ho visto proprio bene bene perché meno fumoso più concreto è entrato poi nel secondo tempo proprio come lui è stato degli artefici per la partita aperta e chiusa poco da dire cioè 6 è bassissimo fra te sei e mezzo c'è la nolu 7 mkhitaryan 7 di marco 7 carlos augusto 6 lautaro 8 turam 8 arnatovic 6 io ripeto avrei dato martinez gli avrei dato a lautaro tra l'otto e il mezzo e il 9 a turam gli avrei dato tra il 9 9 sicuro turam per me turam proprio da 9 turam da 9 ma anche gli altri avrei dato tutti i voti in più cioè il centrocampo dell'inter ha mangiato quello della fiorentina e ripeto c'è anche il valore dell'avversario non possiamo adesso far finta che prima l'avversario era tutto sto fenomeno poi perché gli fai 4 pappini è tutta colpa dell'avversario e anche io l'ho sentito troppe disamine in questo e poi c'è questo caso barella girano anche sul web foto contraffatte foto fake ribaltando a specchio l'immagine che sembra che barella si tocchi si tenga la gamba sinistra dicendo vedete barella come simula è stato colpito da arthur sulla destra e poi quando sta a terra si tena a sinistra semplicemente usando paint fai scambio specchio e sembra semplice basti vedere insomma che sarebbe poi sulla manica sinistra il bollino della serie a che invece è sulla destra ma vabbè ma vabbè lasciamo stare al di là delle cagate che girano su ops pardon che girano su su sul web sui social ma ho sentito anche moviole su moviole anche rinomate dicendo barella meritava il rosso per quel dove essere espulso per la protesta ovviamente va benissimo cioè io la prima cosa detto live ho detto barella ha ragione ma deve farsi i fatti suoi perché così rischia di rilasciare in dieci quindi a fosse arrivato il rosso a barella non si sarebbe potuto dire nulla perché tu non puoi parlare così a un arbitro e barella è un comportamento che deve assolutamente modificare poi chiaramente si entra nell'ordine di idee del gioco del calcio nell'adrenalina vedi un torto grave subito perché oltre al danno c'è anche il dolore e i tacchetti vi assicuro che tra la caviglia e il parastinco fanno male perché quella è proprio la zona libera dove tu arrivi becchi dritto l'osso poi barella si assuma nel caso sarebbe assunto la sua responsabilità interi in dieci pur avendo ragione passi al torto due cose al di là della dell'aspetto quindi la prima che tutto genera cioè la svista clamorosa dell'arbitro marchetti che da un metro e mezzo non vede quel fallaccio di arthur che ripeto secondo me non era da rosso perché non ci vedo violenza cattiveria ci vedo un ritardo nell'arrivare sul pallone può succedere quindi non tutti tutti questi contatti che poi col freno sembra veramente che tu ti addossi con non con malizia perché lì veramente sei un criminale però assumendoti il rischio lì è veramente che un attimo ti tolgono il pallone tu arrivi sul giocatore poi il problema che non è step on foot come ho sentito ieri live in cronaca da zona non era step on foot attenzione altro che foot era era più su della caviglia era stinco basso stinco quindi giallo tutta la vita poi alcuni arbitri avrebbero potuto anche dare il rosso per come vedo il calcio quello non è rosso non è rosso siamo in quella quella zona grigia in cui c'è interpretazione io ma io alessandro cavasinni avrei dato giallo quello fa fatica anche a fischiare fallo poi non ammonisce e a barellali ma questo è il primo punto il secondo è va benissimo rosso a barella a me mi sta benissimo a me anzi no a me mi a me sta benissimo rosso a barella diamo rosso a barella e poi però cominciamo a contare tutti quanti i rossi che vanno dati tutti perché poi la sera per esempio c'è locatelli che mette le mani addosso all'arbitro cetto hernandez che fa perché poi dobbiamo allora estendere a tutti quanti allora vogliamo espellere tutti quanti per il vaffo all'arbitro mi sta bene cominciamo a se no facciamo la fine di alexis sanchez che viene ammonito per simulazione doppio giallo rosso a genova e resta l'unico resta un unicum era dei tempi di krasic e anche lui i piccoli pesci ma in una big in una big che viene espulso uno per doppia munizione la seconda per simulazione devo ricordarmela devo ricordarmi come devo ricordarmi ad esempio la chiusura dello stadio per due turni più un terzo con la curva chiusa per i cori razzisti di un di un sette un piccolo settore io ricordo il meazza nerazzurro dopo inter napoli stop addirittura vietata anche la trasferta furono vietate le trasferte dei cosi del link esemplare mi sta bene va bene ma utilizziamo questo mero per tutti se noi facciamo sempre giurisprudenza col il scemo di turno le analisi con il scemo di turno prima e dopo il nulla e allora non va bene non va proprio bene un saluto